Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Ciao a tutti. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplificate al pianoforte. Oggi siamo in compagna di Francesca Lamacchia, che ci aiuterà nella canzone di... L'addio di Comacose. Di Sanremo 2023. Sì. Dopo la sigla. Bene ragazzi, questa canzone si compone di quattro accordi all'inizio, che sono il Re maggiore, quindi Re Fa diesis La, poi avremo il Fa diesis Minore, Fa diesis La, Do diesis, poi il Sol accanto, Sol, Si, Re, e ancora accanto il La maggiore, La, Do diesis, Mi. C'è un'introduzione con il Si minore anche, quindi Si, Re, Fa diesis, e la canzone fa così. Anni di diapositive, nel camerino il pianto corre al trucco, restare zitti per non maledirsi, come un silenzio che racconta tutto, la cicatrice quando togli il piercing. Davanti al cuore mio c'è una ringhiera, sul tuo che è sempre stato una straplombo, lo sa che mi è piaciuto anche caderci, si però mica puoi toccare il fondo. Magari è solo questa vita strana, con le valigie sempre mezze fatte, magari è solo che ci sia lontana, se si vuole ciò che si combatte. E sparirò, ma tu promettimi che potrò sempre ritornare da te, se mi dimentico a me, come ero, quando l'orgoglio era ancora intero. Come abbiamo visto, qua ci sono due nuovi accordi, che sono il Mi minore, quindi Mi, Sol, Si, e il Sol minore, Sol, Si bemolle, Re. E poi come l'intro, la pia non è una possibilità. Dopo la canzone riprenderà con la strofa e il ritornello, ma gli accordi resteranno sempre gli stessi. Bene, come abbiamo visto, anche questa è una canzone semplice da suonare al pianoforte. Io ringrazio Francesca. Grazie a voi, grazie a te Mario. Grazie a te per averci aiutato e vi ricordo, come sempre, di iscrivervi su questo canale e attivare la campanella, così ogni qualvolta esce un video nuovo potete guardare subito quello che è uscito, come fa Francesca sempre. Ovvio. Appena esce il video, alla prima visualizzazione Francesca, lo vedo proprio. E poi inoltre, se voleste accompagnarvi anche utilizzando la mano sinistra, c'è un video che spiega come poterlo fare, quindi potete guardarlo, vi lascerò il link in descrizione. Ok? Ciao, ciao ragazzi. Ciao. Alla prossima.